eccoci qua per la parte dell'unboxing ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi oggi farò una tipologia di video che non ho mai fatto ai 5 anni che è una lipstick application per chi non sapesse cos'è un lipstick application è un video in cui si provano dei rossetti in questo caso sono dei rossetti liquidi comunque questo video sarà diviso in due parti il primo è una specie di story time con un lipstick application e la seconda è un unboxing quindi abbiamo un po' di tutto in questo video qualcosa che vi piace ci sarà sicuramente questo video è stato gentilmente sponsorizzato da WeMakeup di cui appunto proverò i rossetti liquidi in particolare sicuramente avrete già sentito parlare di questi rossetti oggi non devo provare 1, 2, 3, 4, 5, 6 sperando che le mie labbra resistano a tutto ciò andiamo a metterci il primo rossetto liquido che è il numero 02 il bag è così opaco con la scritta Ever Liquid Lipstick e andiamo a provare il numero 02 che adoro scarico un po' il prodotto perché ne serve veramente pochissimo e vado ad applicarlo tolgo un po' il burro cacao perché mi sono fatto il bagno nel burro cacao per questo video ok è orribile vedermi applicare il rossetto questo me lo applico veramente in maniera brutale ok questo lo adoro è molto molto simile al color delle mie labbra e per chi vuole sapere a chi possono star bene a me sta bene e io ho un rossetto ho un sottotono giallo neutro infatti quelli super rosati non mi stanno bene questo invece penso mi stia veramente benissimo e lo adoro tipo ho cominciato a portarlo in continuazione lo faccio un attimo asciugare e nel frattempo vi racconto un po' di questo progetto un po' di settimane fa sono stata contattata appunto da WeMakeup una contattata per la realizzazione di uno spot breve su Spotify ASMR appunto che tra l'altro trovate sui loro social o se avete Spotify in un appagamento potreste trovarlo anzi lo troverete anche lì e sapete che io in 30 secondi non faccio praticamente neanche le introduzioni cioè il ciao ragazzi grazie di essere qui con me oggi è stata veramente una sfida mi sono appunto confrontata con il loro team per sapere precisamente che tipo di contenuto dove fanno in mente così e se andrete a vedere questo spot andatelo a vedere perché è veramente bellissimo e c'è un po' di unboxing c'è un po' di topping c'è un liquid c'è un lipstick application poi mangio un biscotto faccio vedere che è kiss proof cioè non transfer e tra l'altro vi devo dire una cosa ho provato questo rossetto mangiando la pasta col sugo vedete ancora qui io ero scomposto chiuso a parentesi appunto sono molto molto figlia di questo spot e andatela a vedere perché cioè voglio davvero avere il vostro parere perché sono veramente contenta del risultato andiamo a togliere il primo ve lo faccio magari vedere meglio adesso un po' è close up e andiamo a provarci il secondo rossetto liquido questo è il numero 02 passiamo ora al numero 05 perché perdonate se non sono una campionessa nell'applicazione anche questo rossetto mi piace tantissimo è un po' più aranciato è un pochino più presente diciamo così sul mattone ma veramente molto molto portabile tutti i giorni lo adoro anche questo lo ho indossato spessissimo io vi giuro cioè appena li ho ricevuti proprio a parte che li ho voluti provare tutti però proprio ho cominciato a indossarli 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 perché sono stracomodi vi ho fatto vedere come si è seccato l'altro adesso non aspetto che si seghi completamente se no mi si comincia lo scartavettare le labbra quindi proviamo il prossimo e passiamo subito ai rossi andiamo col numero 27 questo è pazzesco questo rossio è incredibile davvero e so che sembra non usato ma perché di questo ne ho ne ho due copie si vede che questa è la copia che non ho mai usato non mi ricordo adesso quali quali dei due ho usato comunque l'applicatore è comodissimo questo è un rosso freddo quindi spianca i denti come vedete e adesso ne ho messo veramente pochissimo ne potete mettere anche un pochino di più però dopo se lo devo togliere non ne posso mettere tanto e adesso lo lascio un attimo asciugare vi faccio vedere questo effetto vellutino che fa che è spettacolare buttarsi questo insieme allo 02 al primo sia il mio preferito non saprei sapete che io do i rossi li indosso in continuazione anche nei video e non ho paura di usarli anche tutti i giorni a volte vado in palestra con il rossetto rosso perché magari ho girato un video tutti mi guardano ma che cavolo si si è asciugato quindi pochissimo tempo si si è asciugato e guardate che bello guardate come spianca i denti tra l'altro ok passiamo agli altri rossi do il meglio che potevo adesso passiamo al numero ce la posso fare 33 che è un rosso un po' più scuro un po' più sangue ehi ottima fa impressione così anche questo spianca tantissimo i denti è un pochino più scuro dell'altro ed è appunto il numero 33 passiamo al prossimo passiamo all'ultimo rossetto il più scuro che è il numero di quelli che ho che è il numero 34 e questo ci vado bene mi trovo veramente benissimo con lo scuolino e vi datevi sono di una zompa a mettermi i rossetti quindi se ci riesco io ci riesce chiunque questo è un rosso un po' più ciliegia soprattutto lo vedo dal vivo è un rosso un po' più freddo un po' più viola proprio lampone non saprei come dire veramente bellissimo questo lo lasciamo asciugare senza nessun tipo di modestia penso che tutti questi rossetti mi siano molto bene anche perché appunto mi hanno inviati secondo il mio sottotono voglio ricordarvi che tutti questi rossetti liquidi tutto il sito in realtà è ancora in sconto se volete dargli un'occhiata e vi lascio tutti i link il loro sito e i loro social tutti in descrizione ovviamente e ringrazio davvero ancora l'azienda perché sono stati gentilissimi carinissimi anche durante la chiamata sono stati veramente dolcissimi super aperti e super disponibili quindi per me è molto importante quando c'è un proprio delle persone un bel team dietro un brand mi piace molto anche il loro modo di comunicare inclusivo e molto incentrato sulla body positivity quindi devo solo dirvi che appunto ho trovato dietro alla qualità e al brand così anche delle persone molto disponibili e appunto anche aperte a una tipologia di spot del genere perché comunque è ancora molto nuovo in Italia quindi li ringrazio ancora adesso vi lascio all' all'unboxing eccoci qua per la parte dell'unboxing da questo orecchio sentirete la mia voce mentre da questo sentirete più i suoni del pacchetto apriamolo che non vedo allora di scoprire cosa c'è dentro qui ho un paio di forbici e andiamo tagliare la busta questa prima box mi serve adesso per un'altra cosa quindi vi farò vedere il contenuto ve l'ho però fatto vedere prima invece qui abbiamo due scatole qui 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 abbiamo delle striscioline di carta nera e all'interno uno scrub per le labbra che vi dirò la verità volevo acquistare qui si infila il dito un adesivo poi qui c'è la palette c'è la palette vuota dove andrò a mettere gli ombretti guardate che bella vedete qui vedete anche me e la fotocamera e qui abbiamo i vari ombrettini sono tutti ombrettini nude passiamo poi all'altra scatolina e qui vedete e quindi qui abbiamo quattro, no, uno, due, tre, quattro, cinque sei, sette, lipstick più il mascara, andiamo a vedere che colori sono, vi anticipo già perché saranno prevalentemente nude, direi, allora, il primo è questo, qui c'è un breve messaggio, questo è il numero 02 sulla mano, che bello poi abbiamo l'11 Daft & Cinnamon Anche questo sembra un malloncino molto bello 0,5 un malloncino ancora più scuro 33 che bello questo sembra un rosso scuro bellissimo bellissimo infine il mascara more di cui ho veramente sentito parlare benissimo basta, basta ha uno scufalino che non penso di aver mai visto è molto piccolo e le settele sono molto sottili non vedo l'ora di provarlo onestamente questo è il 2 questo è il 2 11 5 e 27 poi abbiamo il 44 33 e 34 bene spero che anche l'unboxing vi sia piaciuto descritto e penso proprio proprio sia giunta l'ora di avvassare le luci e augurarvi augurarvi una buona 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 notte buonanotte sogni d'oro buonanotte sogni d'oro buonanotte 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 Good night, good night, good night Buonanotte pasticcini Un bacione No transfer Grazie di essere stati con me fin qui La fotocamera mi ha abbandonato un pochino prima Che rispere